Però l'Intercity magari c'è un tavolo più piccolo Però sai che non mi spiace No, cancello di qualche... No, lo teniamo come ricordo Siamo con l'Intercity E... dovremmo fare il video di presentazione Sì, no Ah, prova 2 Allora, questo sarà l'inizio del video Perché io non sapevo come si è passato Alza voi, ci sono tutti Vi diamo il benvenuto sul nostro canale Io sono Luca Io sono Filippo E stiamo deragliando a 7 in Torino Siamo sull'Intercity Abbiamo preso apposta la prima classe così che la gente non ci rompe le palle Non è vero, sì, diciamo Leva tutto Allora, no Diciamo così Abbiamo intenzione Alzare un pochettino la voce Perché, purtroppo, il dibattito sul tema del proprio pubblico in Italia Non è... Cosa possiamo dire? Allora, c'è del dibattito assolutamente Purtroppo è spesso molto... L'organistico se esistete questo termine E spesso molto anche incentrato Escutivamente sulla realtà italiana Con... Insomma Possiamo dire che avevamo voglia un pochettino di Mi faccio sentire Se c'è un interesse in questo periodo Insomma Di... Di trasformazioni Ehm Vabbè Noi diciamo che Intendiamo un pochettino Dare il nostro contenuto A questo canale Invece Io Mi occuperò più del Riprese, montaggio, cose così Parteciperò anch'io Ovviamente Ne so molto meno Di lui Sono un po' più Diciamo Esperto Sul fatto Sul tema di materiale leotabia Più tecnico proprio Ci stiamo Caputita Volevo dire Cosa possiamo dire Gio? Serio e di maturo Serio e di maturo? Niente Niente Perché non lo siamo Beh Allora precisiamo Che sia un canale Che parla di test spot Parla Di questo tema Però Non sarà Chiaramente Il canale Più processuale del mondo Cioè certo Sarà Non lo sappiamo Non lo sappiamo Non lo sappiamo Se è stata un'idea È un po' Prontata Anche un po' In una chiave Un pochino più Diciamo Non seriosa Magari un po' Divertente Però Comunque Trattando Siamo a Brandizzo Brandizzo Vi salutiamo Tutti Buonanotte Vi salutiamo E buonanotte Allora Siamo nel futuro Aspetta che Ci sono le campane Di parlare forse Siamo nel futuro Siamo a Due giorni dopo Come vedete Mi sono tagliato i capelli Quindi è Il segno del futuro Abbiamo rivisto il video Che abbiamo fatto Due giorni fa E ci siamo accorti Che non si è capito Niente di quello Che dovevamo dire Giusto? Perché No Poco si è capito Il mio si capiva Perché parlavo Infatti Il mio no Non si è capito E il mio Allora no Facciamo una bella roba Diciamo che Beh Lui si è presentato Ha parlato Della questione Materiale rotabile Diciamo che Stiamo Elencando Ecco I nostri punti di forza Quindi se per lui È Che altro L'infrastruttura Materiale rotabile Per me È la pianificazione La gestione Del servizio Quello È l'aspetto Che mi interessa E mi appassiona di più E insomma In cui ho maturato Più esperienza Quindi diciamo Che avremo un po' Questa specie di Implicita Divisione Dei compiti Ci hanno Barrito nel video Non lo so Che cavolo è successo Comunque Questa I've waited As long As I could If you needed Sure I would That's fine I've taken away A lot of stuff I'm telling you it's rough but not goodbye